Salve gente e benvenuti nel mio canale youtube oggi andremo ad effettuare insieme il terzo gameplay di Clash of Clans e allora rispetto al secondo gameplay ho costruito un'altra caserma e ho finito di costruire l'altro accampamento questa ancora è a livello 1 mentre questa è a livello 2 il nostro municipio è arrivato a livello 3 ho ampliato anche la miniera d'oro a livello 5 ho costruito anche una torretta con degli arcieri per difendermi ho finito anche di ampliare il deposito degli alisir e ora ho costruito, cioè no ho costruito ho addestrato queste truppe infatti come vedete ho riempito tutti e due gli accampamenti perché vorrei provare un attacco ai goblin vediamo insieme, vediamo che riusciamo a fare stavolta il secondo gameplay è stato una sconfitta totale speriamo non sia lo stesso anche stavolta perché le truppe penso di averle preparate bene vediamo che succede andiamo ad attaccare i goblin quello che qui mi preoccupa di più è il mortaio poi ci sono anche due cannoni ma comunque con le truppe che ho credo di farcela allora iniziamo a schierare e li mettiamo contro il mortale allora come possiamo vedere un gigante è stato un vecchio anche un altro i soldati tempi sono tutti tutti a posto però comunque abbiamo solto di mezzo tutte le rotte tutte le rotte di coglione quindi questo è già l'ultima parte vabbè ce l'abbiamo fatto in sostanza ormai aspettiamo che spacchi con queste cose aspettiamo di fregargli tutte le rotte e tutto l'oro credo che se non mi sposti che prendi hanno loro 3000 monete e 300 c'è qualcosa di erosia e ci servono comunque tutti e due sia per ammigrare il villaggio che per andare a cercare magari partite online con le monete penso che ormai glielo spacchiamo tutto con queste truppe stesse e quelle almeno me le conservo ho capito intanto in questi gameplay che le truppe se io non le metto tutte in campo quelle che non le metto in campo ovviamente mi tornano invece quelle che metto in campo sia che rvingano sia che perdono le ho perso e basta ci stanno un po' però prima o poi ce la faranno io gli metterei un altro gigante solo per aiutarli ma ho cercato di fregarli adesso stiamo da qua ottimo ok l'ultimo volpo ah ancora c'era vabbè tre giganti e due soldati l'ho distruggito credo dove stiamo sbloccando ah le stelle danno progressivo oh tutto a posto 100 per 100 a posto torniamo al villaggio e raccogliamo raccogliamo anche un obiettivo sbloccato vediamo due cercatore d'oro ruba 20.000 unità d'oro e ce l'abbiamo fatta anche questo fuga con elisir ruba 20.000 unità di elisir e ce l'abbiamo fatta anche questo siamo pieni di monete eeeh l'elisir intanto costruiamo delle truppe costruiamo un po' di giganti si ok quattro giganti eeeh cinque soldati semplici cinque arcieri e vediamo nell'altra caserma a vero qua i giganti non li possiamo fare ancora non è a livello 3 a livello 4 possiamo fare i goblin vediamo vabbè andando aspetta andando vediamo 2.500 possiamo potenziare questo a livello a forse 500 cinquecento cinque mila mmm o ce lo teniamo da parte qua che ci vuole mh che venticinque mila qua caro per l'elisir no prendiamo 3.005 monete 3.005 dormono tutti e l'elisir e ci li guidiamo eeeh questo ci vuole sempre quello addestriamo altri 5 e 10 accessi si si diamo un'occhiata al prossimo villaggio dei qua dei goblin da attaccare vediamo come è combinato vabbè questi hanno un labirinto hanno 3 cannoni sicuramente avranno le bombe nascoste pure loro vabbè questi non sono difficili da ammazzare mi sa che al prossimo gameplay andremo ad uccidere all'oro ora possiamo cercare una partita online vediamo che cosa troviamo questo mi sembra ben protetto alla fine mura arcieri non hanno più di danno vabbè 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 questa è un'altra parte di grande e di verde eccellente, il quinto per cento mi sa che li vanno per diviare e mi sono in pochi, se li vanno per chiari me li vanno per diviare un'utile a scherzare perchè ci stiamo facendo un po' di tir per costruire altre truppe e al prossimo video andiamo a staccare il culo ah, di un minuto un grosso spazio se hai fatto il posto, cazzo, ti presento un po' ma anche gli atteso, ognuno per i cazzi di loro non l'ho capito, perchè ne vanno un minuto all'ultimo, non l'ho capito vanno ognuno per i cazzi di loro e non c'è modo di muoverli una volta scherzati sono lì e non si possono più muoverli però è strano non so se c'è il muoto, ma penso di no se il ciclista non mi fa fare niente se c'è un'altra unità 10 secondi 10 secondi il capo da 88 per tempo non è male ma buono 94 se distruggiamo pure il municipio 0 niente, non ci siamo arrivati se ci vediamo arrivati 5 buono trofeo qua 10 che non ho capito che vuol dire 10 trofei penso è finito allora andiamo a costruire un po' di truppe chiamavamo 5000 potevamo... no, non potevamo migliorare perchè sono tutti e due 10 10 e 10 il gigante non ce ne fa fare più dobbiamo aspettare no, se è finito forse non dobbiamo aspettare municipio qua ce ne vuole deposito finchia di nuovo pieno a livello 3 dobbiamo migliorare di nuovo però dobbiamo aspettare che ormai migliorano due ore ci vogliono all'incirca e... possiamo fare possiamo fare costruire non possiamo costruire niente ragazzi mi sa che per oggi è finito anche questo gameplay le truppe le stiamo costruendo al prossimo livello mi raccomando seguitemi andremo a distruggere l'altro villaggio dei goblin che sarebbe qua valle del ratto penso che ce la facciamo con l'esercito che sto costruendo bene ragazzi se il video e il gameplay vi sono piaciuti non dimenticate di lasciare un mi piace al video ed iscrivervi al mio canale youtube alla prossima ragazzi